Tommaso Zorzi è stato protagonista di uno sfogo su Instagram, il 27enne di Milano è stato messo al corrente da una sua amica di una frase infelice pronunciata da Andrea Pucci nel corso di un suo spettacolo. Come spiegato da Tommaso, il comico anziché chiedergli scusa lo ha bloccato sui social. Il web influencer per spiegare cos'è accaduto ha condiviso in una stories, su Instagram, un audio ricevuto da una sua amica. Nello specifico, la ragazza ha deciso di andare a vedere uno spettacolo di Andrea Pucci e si è ritrovata ad ascoltare una frase infelice su Zorzi. Durante lo spettacolo, il comico ha ironizzato sui tamponi effettuati dalle persone nel periodo di pandemia, se trovavi un operatore sanitario STR. E lo infilava in entrambe le narici, se ancora più st.in gola. Prima di concludere, Pucci ha menzionato il vincitore del grande fratello VIP, i 5, e se eri Tommaso Zorzi pure nel C. Dopo essere stato messo al corrente sulla frase infelice di Andrea Pucci, Tommaso Zorzi ha sbottato sui social. Il 27enne, su Instagram, si è domandato come sia possibile che un personaggio famoso pronunci una frase simile davanti a una vasta platea, una roba che mi fa impazzire. Successivamente Zorzi ha affermato, come fai ad arrogarti il diritto di salire sul palco e dire che io lo prendo lì? Il 27enne ha chiesto di smetterla con gli stereotipi, siamo nel 2022, gli anni 80 sono finiti. Nella seconda parte dello sfogo, Tommaso Zorzi ha spiegato che se lui avesse pronunciato una frase infelice sulla moglie di Pucci probabilmente sarebbe stato definito un pazzo. Ora perché io sono gay e a te far ridere questa dicotomia si può dire? A quel punto il web influencer ha sbottato, secondo me mi devi delle scuse. Ovviamente, il botta e risposta Zorzi Pucci non è passato inosservato. Su Twitter, moltissimi utenti e giornalisti hanno riportato la frase infelice pronunciata dal comico. In molti si sono schierati dalla parte del web influencer, secondo alcuni, la battuta di Pucci è omofoba. A detta di un utente, si è trattato di una caduta di stile il fatto che il mattatore abbia bloccato Tommy sui social la dice lunga. Grazie. 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 Grazie.